Due commercianti ambulanti senegalesi di 39 e 41 anni sono stati arrestati dai Baschi Verdi nel comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari. Sono accusati di resistenza pubblico ufficiale e legioni personali. I due ambulanti che stavano esponendo la propria merce in via Roma a Cagliari alla vista dei militari hanno cercato di sottrarsi dal controllo fuggendo tra i tavolini dei portici e tentando di far perdere le proprie tracce. Nel tentare di divincolarsi dai Baschi Verdi hanno anche arrecato delle scoriazioni e dei traumi contusivi ai finanzieri. Alla fine però i Baschi Verdi li hanno bloccati. Ai due ambulanti, oltre al reato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni, sono stati contestati anche quelli di commercio di articoli contraffati. Questi reati sono stati contestati anche ad un terzo commerciante ambulante senegalese. Le fiamme gialle durante il controllo hanno sequestrato 295 prodotti tra accessori e capi di abbigliamento e 15.910 etichette contraffate. I militari hanno esteso la perquisizione anche all'abitazione dei tre commercianti ambulanti al fine di accertarsi che non vi fosse altra merce contraffatta.